Ehi, benvenuti o bentornati su American Coffee. Il video dedicato al cibo questa settimana arriva prima perché questa domenica io sarò a Pechino e quindi non posso caricare video in Cina. Cosa tornerò ad ottobre in Giappone, quindi continuate a seguirmi. Oggi vi porto alla scoperta del mio dolce preferito in Giappone. È un po' costoso ma vi consiglio assolutamente di provare le crepes giapponesi. Il luogo più famoso per le crepes è di sicuro Arashuko. Ci sono tantissimi stand che vendono crepes, ma io in questo caso sono a Kabukicho che è vicino alla mia scuola. E proveremo, questa è una catena si chiama Pear Lady, è dove prenderemo le crepes oggi e hanno anche il bubble tea che in Giappone ha un sapore veramente diverso, veramente molto, sa molto di latte. E oggi troverò queste sono crepes specialist giornali al matcha. Ok, visto che l'ultimo giorno qui a Tokyo mi sono concessa anche un pranzo gigante qua a Kabukicho, guardate quanto sono grandi i miei rame, questa è la porzione normale. Questo posto si trova appunto a fianco al posto dell'angozzi là. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Viaggerò verso l'Italia e successivamente in America. Caffè cappuccini?